Il countdown è iniziato, domenica torna a Bari la Race for the Cure, la manifestazione sportiva e benefica organizzata dalla Susan Com in Italia, una corsa per raccogliere fondi per la lotta ai tumori al seno, patrocinata dalla Presidenza della Repubblica. Intorno all'evento clou di domenica 25 ruotano una serie di appuntamenti che partono da venerdì 23, con la presentazione in conferenza stampa alle 12 dell'ottava edizione della Tre Giorni di Sport, Salute e Benessere. Alla presenza di Rossana Banfi, madrina della manifestazione, insieme a Maria Grazia Cucinotta. A seguire alle 15 l'apertura del villaggio Race, quest'anno a Largo Giannella, di fronte a Piazza Diaz, un'area bimbi con i gonfiabili e attività ludiche a cura di Lazy Town, laboratori di fumetto, il Green Laboratory Il Mondo Più Bello e la lettura dell'ultimo libro di Paolo Comentale, Il Salto di Ovest. Nell'area fitness tante attività, da mattina a sera. Nel villaggio Salute le iniziative di sensibilizzazione e prevenzione secondaria con medici a disposizione per consulenze specialistiche. Nello spazio educativo, medici specialisti in varie discipline saranno a disposizione del pubblico per rispondere alle domande, diagnosi, chirurgia, medicina nucleare, chirurgia plastica e molto altro. Nell'area rosa invece corsi di yoga, della risata e il laboratorio piccole preparazioni galeniche per la salute e la bellezza. Sabato 24 alle 13.30 all'Ilaia Centro Benessere si svolgerà il torneo di beach tennis e domenica 25 alle 12 prenderà il via la veleggiata Susan Common Italia, organizzata dal Circolo della Vela di Bari in collaborazione con il Circolo della Nautica. I vincitori saranno poi premiati al Circolo della Vela alle 18.00. Padrone di casa è il professor Vincenzo Lattanzio, presidente del Comitato regionale Puglia della Susan Common Italia, che ricorda il ruolo fondamentale della prevenzione nella lotta alle neoplasie. I test di guarigione aumentano considerevolmente nei casi diagnosticati precocemente, si supera infatti il 90%. Di pari passo migliora anche la qualità della vita nelle pazienti. L'informazione in questo campo gioca un ruolo fondamentale ed è per questo che siamo impegnati costantemente in campagne di sensibilizzazione. La race è una manifestazione benefica ma anche sportiva che prevede due percorsi, uno di 5 km per i più allenati ed uno più breve di 2 km per i principianti. I percorsi sono tutti rivolti al mare, il più lungo, quello da 5 km, parte da Piazza Diaz per arrivare sino al muolo Sant'Antonio e poi indietro, sino a pane e pomodoro per poi tornare in Piazza Diaz. Per la 2 km si parte da Piazza Diaz sino al muolo Sant'Antonio, nella città vecchia dall'arco mercantile per poi tornare in Piazza Diaz. Per partecipare alla maratona benefica basta un contributo minimo di 10 euro che darà anche diritto alla borsa a omaggio degli sponsor. Iscrivendosi e partecipando alla Race for the Cure si contribuisce a finanziare progetti di lotta al tumore al seno. Progetti che per volontà della Susan Common Italia sono finanziati sul territorio nel quale sono stati raccolti e dei quali si può avere riscontro consultando il sito www.racebari.it Grazie